Ritorniamo alla cronaca. Stanno meglio i due minorenni intossicati a causa dell'incendio del quadro elettrico scoperto ieri in una palazzina in via Addis a Sassari. Dopo gli accertamenti è stata esclusa l'origine dolosa. Valentina Ruio. Migliorano le condizioni dei due minorenni trasportati in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo l'intossicazione da inalazione di fumi dovuta a un incendio scoppiato a causa di un cortocircuito del quadro elettrico generale in un condominio in via Addis. Sul posto hanno operato 16 unità di vigili del fuoco con l'ausilio di 7 mezzi tra i quali due autopompe e una toscala. L'evacuazione ha riguardato 32 condomini, due dei quali con problemi di deambulazione. Domato l'incendio sono partiti gli accertamenti sulle cause, si esclude l'origine dolosa. Si è trattato piuttosto di un malfunzionamento o di un sovraccarico del pannello dei contatori situato nell'androne della palazzina, pannello che pare fosse nuovo, sostituito da poco. Si stanno aspettando i vigili per ridare l'agibilità, in compenso le forniture elettriche sono state ripristinate durante la notte e restano solo da ottimare i collegamenti. Ancora la cronaca, seguiva negli spostamenti l'ex compagna, la contattava telefonicamente in modo minaccioso. I carabinieri della stazione di Laconia hanno arrestato un 33enne del paese, poi sottoposto ai domiciliari per reato di atti persecutori. L'uomo era stato denunciato dalla sua ex compagna perché dopo l'interruzione del rapporto sentimentale, in diverse occasioni, l'avrebbe pedinata fino anche al luogo di lavoro e l'avrebbe contattata ripetutamente al telefono in modo molesto e anche minaccioso. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Fonni. Fonni che si prepara per la nuova stagione invernale in attesa di ammirare le cime innevate del paese più alto della Sardegna. Abbiamo incontrato la sindaca Falconi. Ecco cosa dichiarato al microfono della nostra Chiara Sanna. Fonni si prepara per una nuova stagione invernale. Con i suoi mille metri di altitudine si erge su tutta la barbaggia di Ololai come un re che domina i suoi sudditi. Oltre al fascino del borgo e alle sue tradizioni che si riuniscono non solo tra le scene dipinte sui murales del centro storico, ma anche nel museo della cultura pastorale e poi con la solenne processione per la Madonna dei Martiri, che ogni anno attira tanti credenti, rimane l'unico posto dell'isola in cui durante questi mesi si può organizzare la settimana sciistica, con ciaspolate ed altre attività che il comune ogni anno programma con cura, non solo per gli isolani, ma anche per accogliere turisti. Intanto si attende la magia dei primi fiocchi di neve. Ci stiamo organizzando adesso in questi giorni per accogliere tutte le persone che arriveranno per le feste. Come amministrazione abbiamo organizzato una serie di eventi sia per i volti alle famiglie, ma anche agli sportivi. Infatti il 31 dicembre ci sarà la Corsa di San Silvestro che porta da sempre in paese tantissimi appassionati. Poi ovviamente siamo un paese di montagna, quindi abbiamo il richiamo della neve quando nevicherà, che porterà comunque sul nostro territorio diverse persone. Ci si sta organizzando come gli anni scorsi, quindi con le strutture private che sono a disposizione. Chi organizza le ciaspolate in montagna, chi organizza delle feste o comunque delle occasioni di incontro sui montagna per portare un po' di gioiosità ai turisti che vengono a visitarci. Quindi il paese è pronto ad accogliere e sarà aperto il museo per chi vorrà dedicarsi anche a scoprire la cultura e la tradizione del nostro paese, del nostro territorio. Quindi noi non possiamo fare altro che invitare tutti a trascorrere qualche giorno in montagna. Vi è libera definitivo l'accordo di programma per il nuovo stadio del Cagliari che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro della regione a favore del Comune. Adesso c'è anche la pubblicazione sul Buras, ovvero il bollettino ufficiale della regione del decreto di approvazione. L'impianto sarà realizzato secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali e dentro i termini per ospitare gli europei del 2032 che si svolgeranno in Italia e in Turchia. Ieri sera la cittadella Universitaria di Monserrato ha ospitato la Christmas Lecture, l'evento interamente a tema scientifico organizzato dall'Università di Cagliari dedicato agli studi sulle onde gravitazionali e al progetto dell'Einstein Telescope. L'ha seguito Daniele Chirico di UTG. Dall'osservazioni del cielo di Galilei fino agli studi attuali sulle onde gravitazionali alla cittadella universitaria di Monserrato è andata in scena la Christmas Lecture, un evento interamente dedicato alla scienza e alle scoperte scientifiche organizzato dall'Università di Cagliari. Assoluto protagonista il progetto Einstein Telescope che potrebbe essere realizzato nell'isola. Ma cosa permette di fare? Per Eugenio Coccia, professore ordinario di astrofisica, è un grande passo avanti negli studi, in quanto permetterà di osservare e studiare l'Universo dal punto di vista delle vibrazioni dello spazio-tempo. Questo permetterà di osservare le parti oscure dell'Universo, i buchi neri, le stelle di neutroni, a distanze e confini dell'Universo, possiamo dire. Osservarle non con la luce, non con le relazioni elettromagnetiche, questa è la novità, ma osservarle tramite le vibrazioni dello spazio-tempo. Quindi sarà come ascoltare l'Universo e non vederlo. Ecco, la differenza con l'astronomia tradizionale, è come se finora l'Universo fosse stato per noi una specie di film muto e adesso finalmente abbiamo anche il sonoro. E' questo il paragone che si può fare per capire l'ampiezza e l'importanza di questa nuova astronomia delle onde gravitazionali. Soddisfazione da parte del Rettore Francesco Mola nel vedere la Sala Colma segno di grande attaccamento all'Ateneo. Per il Rettore una cosa è certa, qualora la decisione di creare la grande infrastruttura ricadesse sulla Sardegna sarebbe una grandissima occasione per far crescere non solo le università ma tutto l'ambiente scolastico. Sugli studi universitari, ovviamente, noi già che siamo impegnati nella parte del progetto di Einstein Telescope, nel progetto ETIC, quello legato al PNRR, già ci sono iniziative che vanno in questa direzione. La nostra ambizione è far crescere non solo il mondo universitario ma tutto il mondo anche scolastico. Quindi significa creare un meccanismo per attrarli anche da fuori. Quella è la grande sfida per la nostra regione. Circa 8.000 decorazioni per alberi di Natale ghirlande, palline in plastica, senza etichetti in italiano e senza informazioni sui materiali di cui erano composti sulla filiera di provenienza sono stati sequestrati dalle fiamme gialle del gruppo di Olbia in uno dei punti vendita di una grande catena commerciale. L'operazione Natale Sicuro 2023 del Comando Provinciale di Sassere ha preso il via dalla città gallurese e ha visto intensificarsi i controlli a tutela del settore dei beni e dei servizi per contrastare il commercio di articoli non sicuri potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Al titolare dell'esercizio commerciale di Olbia è stato segnalato alla competente Camera di Commercio che potrà ricevere una sanzione fino a 25.000 euro. Gli studenti dell'Alberti di Viacoc in protesta per il troppo freddo nelle aule questa mattina i tanti ragazzi della sede di Viacoc si sono appunto rifiutati di entrare a scuola fino a quando non si risolverà il malfunzionamento all'impianto di riscaldamento. Adesso chiedono aiuto alla città metropolitana di Cagliari e poi vedremo che l'aiuto c'è stato. Maurizio Pilloni di IOTG Aule gelide che raggiungono appena i 13 o 14 gradi e così gli studenti del liceo Alberti di Cagliari si sono rifiutati di fare il loro ingresso a scuola per protestare contro il problema dell'impianto di riscaldamento nella nostra sede di Viacoc come spiegano i ragazzi con un comunicato stampa. Da diverse settimane l'impianto non funzionerebbe adeguatamente e con il recente calo delle temperature la situazione sarebbe diventata insostenibile. Questa mattina di fronte all'assenza di miglioramenti gli studenti hanno deciso di non entrare a scuola manifestando e chiedendo lezioni in un ambiente confortevole sia per loro che per i docenti e il personale ATA. Sempre secondo gli studenti nonostante le ripetute visite dei tecnici della vita incaricata il problema non ha trovato una soluzione definitiva con l'impianto che continua a guastarsi periodicamente. Pretendiamo quindi un intervento urgente da parte della città metropolitana di Cagliari scrivono per risolvere il problema il prima possibile. È la seconda volta in un mese che gli studenti e l'Alberti chiedono l'aiuto dell'ente. Poche settimane fa la richiesta verteva sul pericolo di perdere la sede di Viale Colombo dramma superato dalla decisione di prorogare il termine ultimo del contratto di affitto dell'istituto fino al 2027. E successivamente alla protesta con una nota ufficiale la città metropolitana di Cagliari ha comunicato che a seguito di alcuni interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria sugli impianti è stata ripristinata la temperatura di 19 gradi. Dopo tre anni al comando il dirigente superiore Antonio Giordano ha lasciato un uro a seguito della recente promozione per andare a ricoprire l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari. Al suo posto da oggi arriva il primo dirigente ingegner Giampaolo Lampis. Nei giorni scorsi nella sede dell'Episcopio a Cagliari l'arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Batturi ha incontrato le comunità migranti presenti nel territorio di Ocesano nell'ambito dell'iniziativa è Natale il vescovo incontra gli immigrati. Vediamo. È stata una giornata intensissima abbiamo incontrato quasi 50 comunità di immigrati qui a Cagliari o in Sardegna. Ognuno di queste comunità ha portato delle storie storie di sofferenze ma anche di speranza di integrazione e anche qualche dolore alcune di queste comunità quelle ucraina quelle palestinesi hanno detto anche l'orrore per la guerra ma anche alcune comunità africane spesso sono guerre dimenticate di cui non sappiamo più nulla hanno colpito soprattutto i racconti di comunità che si prendono carico dei bambini dei loro paesi perché abbiano un futuro migliore e siano anche liberi di non partire. La Chiesa vuole così esprimere un'accoglienza verso gli uomini colti nelle loro comunità e nelle loro culture perché ci sia la possibilità di un incontro utile per tutti noi. La vita dell'uomo è preziosa ci è stato detto a prescindere dal colore dalla lingua a prescindere dai luoghi di origine e quelli di crescita e di maturazione. C'è un'idea che il Papa continua a ripetere l'integrazione non è assimilazione ma rispetto delle diversità ma ciascuna di queste comunità deve essere reso protagonista del proprio futuro del proprio riscatto di una possibilità di vita migliore di cui anche noi noi che accogliamo possiamo certamente avvantaggiarci. Grazie a tutti.